Musica Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura93 Ovviamente vi auguro buona domenica Spero di potervi intrattenere al meglio con un'altra puntata di Titanfall Che non la facevo, anzi forse ne ho fatta solo una nel mio canale Della versione completa Ragazzi vi volevo un pochettino far notare questa piccola cosa Che ovviamente io sto per andare alla generazione 3 Che sarebbe alla fine il secondo prestigio E ragazzi non so quanti di voi abbiamo visto Ma per requisiti di generazione ci sono delle sfide da fare Ad esempio c'è da fare il canale da 40 mm del Titan Uccidere tipo 50 titani Poi ad esempio bisogna fare le uccisioni proprio da Nabboni Con lo shotgun Evo Evo 8 quello che cazzo è E 75 pilot sempre con lo shotgun Ragazzi quindi avrete delle sfide da fare ovviamente Per la rigenerazione, per andare al prestigio successivo Questa è un pochettino una merdata alla fine Perché magari trovate delle armi che non vi piacciono per niente Magari mi capita il cecchino E mi troverei un pochettino a disagio alla fine Quindi ragazzi partiamo subito E io direi di farci il solito partitella Andiamo su logamento Ho visto questa nuova cosa Improved matchmaking Che è try out and spare matchmaking test in nutrition mode Ehm... vabbè No, facciamo un solito logamento ragazzi Allora ragazzi siamo su a shell Andiamo un pochettino Anche appena iniziata ragazzi Perfetto Questa è una delle mappe più belline forse Una delle più piccole Uh, eccone uno Eh da, one Fulminato Uh, scappo e c'è un pilota dietro di me Grande A posto Mi sono salvato Ma perché mi... Ma perché? Ok, chiamiamo una carta Che no, porba Non si Ah, mi stai spiegando proprio quando mi stai sparando Sì, che culo Piatta, piatta Scappa Ah, ne uccisi due ragazzi Ne uccisi tre Grandissimo Ma che partitore ragazzi Anzi, usciamo il Titan Va Minca, bucchiamolo Caccio, sì Ecco, ovviamente Devi morire Ah, mio compagno Ok Perfetto Cosa, cosa Cosa volete fare, eh? Ah, allora si Risolvi tutto Dalla barriera Merda, mi ho vissuto il Titan Va bene Va bene Ecco, avete visto l'avversario Come se riusciamo a devastarlo No Uh, mi stavo per uccidere Grande, vai Attacca, attacca, attacca Uh, ovviamente Mi ammazzano gli altri Va a cagare Allora No, merda Non ho messo l'abilità delle carte Cazzo Quindi mi sarebbe fatto un po' di conti in più Allora C'ero che sei un limite più in più Allora Non devo stare Ecco lo stross Ma dai Non muore Sta merdaccia Allora Rinnovo urbano Ancora Stavo buttando Più che altro Ragazzi Le carte più burde Che non servono a un cazzo Perché alla fine Ha aumentato i punti Quindi è Cosa buona Rodeo Guarda Non c'è delle Bombe Delle cariche salve Guarda Magari La pensiero scende Guarda Non scende Non scende Che cazzo Bombe E' morto Sto stronzo E' mori anche Tu Merda Schifosa Ma grande Zio Curre Sta Facendo stragi Guarda 10-3 Porca puttana Sono appena entrato Sto già devastando Tutti Allora Le avversari Saranno sicuramente E' qui C'è qualcuno Lì No Perfetto Sicuramente c'è un titano Qui Bambu Cazzo Come Arrivati Chi sa Vediamo A termine Un po' Di spec La canzetta E varia Perché vi fate Anche un po' Di punti Allora Gli avversari Sono tutti qui Dentro Guardate Non li vedo Che cosa vuoi fare Ma che cosa vuoi fare Adesso Adesso mettiamo anche Il nucleo Giani Va Bam 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 E' buccato Cosa Ah bello Comparerà nulla Ah ok E' un titanfall Era un titanfall Morto Ole Siamo ragazzi 16-4 Porca troia Che partitone Allora Andiamo Qui sono solo Cadaveri Non ce ne è via Non ce ne è Non ce ne è via Da quel cuore Ecco l'avversario Andare via Andare via Grande Devastati C'ha 7 Oh cazzo Oh cazzo Allora Dobbiamo passare Da queste Carica Carica Ok Ma vai A cagare Grande Chiamiamo il titan Guarda quanto siamo Ragazzi 18-4 Che parditozza Mamma mia Zio Curre Si sta impegnando Mamma mia Questo è un gioco Splend Allora Dai Ole Devi morire Merda Non ce l'ho fatta Eh ok Mi si è cagliato qualcuno Espulsione Dov'è il tipo Eccolo Allora ragazzi Andiamo a prendercelo Va Tipo se ne esco Sto posendo Sicuro No Strano Un pezzo è finito Scappato via Ah L'ho arrivato devastato A questo punto Allora Eccolo lì E' lì BAM Furia Ragazzi Stiamo facendo Una strage Una strage Porca troia Che partita Guardate 24 Porca puta Gli abbiamo Buccati alla grande Allora Qui c'è un altro Avversario Ah lì Sicuro Porca troia Ok Dove è lì Ma no Ma no Buccato Ma grande Basta fin tutti Oh Ma che cazzo Di partita Gli ho spaccato Il culo Ragazzi Titanfall Dai scendi 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 Allora Siamo Minchia 24 Buonissimo Ovviamente Ho fatto anche 3-4 Pili in più Adesso Che ovviamente Non conta Quando finisce La partita Merda Il punto di Interpretazione Siamo in retardissimo No Non ce la faccio Dai Devastiamolo Ragazzi Devastiamolo Merda Scappata Perché Sta persa La partita Uff Merda Uccidilo No L'avessi dovuto Schiacciare 24 15 4 morti Ragazzi Porca puttana Che partita 111 punti E ovviamente La squadra avversaria Abbandona Però ragazzi Ho fatto un partitone Sono veramente contento Di questo Mi fa veramente piacere Oh iaiaiai Aspettiamo che cari Così usciamo Non abbiamo nessun tipo Di problema Quindi ragazzi Ok Perfetto Usciamo Ovviamente Non sono salito di livello Perché è un casino Salire di livello Quindi ragazzi Spero che la partita Vi sia piaciuta Spero che Ovviamente Il gioco di Titanfall Vi piaccia Come serie Perché è veramente Una figata E spero che molti di voi Su Xbox One Mi sa che è uscito anche per No Mi sa che riesce ad aprire Adesso mi sa Titanfall Per 360 Comunque Spero che molti di voi Se lo apprendano Perché è veramente Un gioco cazzotto Veramente fantastico Forse uno dei titoli Più belli Che abbiamo mai visto Di FPS Questo genere Che mi piace molto E come al solito Vi invito a iscrivervi Commentare Mettere mi piace Se ovviamente L'avete apprezzato Il mio video E noi ci rivediamo Alla prossima Quindi Bella raga Alla prossima